Cominciamo oggi una serie di piccoli video sul mondo dell'editoria. Oggi parliamo dei tre puntini di sospensione che molti di voi utilizzano. Mi raccomando, sono tre, non due, non quattro, non cinque, solamente tre. Vanno messi a fine frase, dopo la lettera, senza spazi. Quindi Mario è uscito di casa, puntini, 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 spazio e ricomincia l'altra frase. Si usano come forma proprio sospensiva, quindi si blocca in quel momento il dialogo, il racconto. È un qualcosa in più della virgola. Un autore che ne fece forma letteraria e artistica di questi tre puntini è stato Ferdinand Selin, uno dei suoi libri più famosi, Viaggio al termine della notte. Lui usò all'eccesso questo tipo di punteggiatura. Però si possono utilizzare, sono belli, sono utili, danno un senso di respiro alla frase. Non eccedete, chiaramente, non mettete gli spazi, prima, mi raccomando. Quando vengono utilizzati all'inizio della frase, non va messo lo spazio ugualmente, quindi virgolette, puntino, puntino, puntino e inizia la citazione. All'inizio indicano che c'è qualcosa prima, mentre alla fine della frase sospendono il parlato, il raccontato, soprattutto. Va bene, ci vediamo la prossima volta con un altro argomento.